Alle 8 e 28 del 30 gennaio 2002, una donna di nome Anna Maria Franzoni telefona al 118 chiedendo aiuto per suo figlio Samuele. Dice che era sul letto e vomitava sangue. La donna sembrava terrorizzata, ma poco tempo dopo si dimostra fredda, un po' distaccata. Nessuno sa che quel giorno sarà l'inizio del caso di Cronaca Nera più controverso della storia italiana. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, prima di iniziare, devo fare una gigantesca premessa. Perdonatemi, ma è importante che non saltiate questa parte, anzi direi che è fondamentale. Vi confesso che già solo il pensiero di parlarvi di questo caso mi fa venire i brividi. È difficile che non lo conosciate, perché ne hanno parlato davvero tutti in Italia. Non su YouTube, però ne hanno parlato tante persone in TV, nei media. E lo sapete, io non sono un esperto. Nel mio canale vi riporto storie di Cronaca Nera basandomi su quello che trovo su internet. Quindi io non mi invento mai nulla. Non mi permetterei mai. Anche alcune delle considerazioni che faccio durante i video sono le stesse che potete trovare online. Quindi, quello che voglio dirvi è che per il caso di oggi non sarà per niente diverso. Ho consultato diverse fonti e fatto vari confronti incrociati, che semplicemente significa che ho letteralmente incrociato le fonti per capire se alcuni dettagli sono davvero autentici. Ovviamente non sono perfetto e nessuno di noi ha la verità in tasca. Né io né voi. Per questo caso in particolare ho notato che l'intera Italia si è divisa in due, per cui è possibile che a prescindere da quello che dirò qualcuno si incazzerà. Quindi, per favore, anche se vi incazzate, non insultate nessuno. Prima finite il video, poi, se volete, con calma, ne parliamo e ne discutiamo nei commenti. Ovviamente siete liberi di farmi notare se ho saltato qualche informazione o anche se l'ho riportata sbagliata. Anzi, potreste impreziosire molto questo video. Ma lo ripeto, non sono perfetto e potrei fare errori. Voglio però che sappiate che per questo video ho fatto davvero del mio meglio. Non è mia intenzione prendere le parti di nessuno, né giudicare, né dare a voi una verità assoluta. Quindi vi ricordo di essere gentili, per favore, perché c'è la possibilità che le persone coinvolte in questa vicenda vedranno questo video e addirittura leggeranno le vostre opinioni qui sotto. Quindi mi raccomando, facciamo i bravi e iniziamo con il file di oggi. Comincia tutto da Anna Maria Franzoni, quindi anche noi cominceremo da lei. Anna Maria nasce il 23 agosto 1971 e, secondo alcune fonti non troppo attendibili, è nata verso le 10. La cosa sicura è che nasce a San Benedetto Val di Sambro, un comune della città metropolitana di Bologna. Anna Maria è la terzo genita di Giorgio Franzoni e Chiara Magliozzi, una coppia molto unita. I genitori di Anna Maria sono un po' l'antica, nel senso che ci tengono molto ad insegnare i valori sulla casa, sulla chiesa, sulla famiglia e sul duro lavoro. La loro è una famiglia molto numerosa. Alcune fonti dicono che in tutto hanno 10 figli, mentre altre ben 11. Si dice che Giorgio, il padre, avrebbe voluto addirittura 12 figli, proprio come gli apostoli. Come vedete quindi si tratta di una famiglia molto credente, molto unita e anche molto semplice. Tutti si danno sempre una mano a vicenda e il padre ricorda sempre ai suoi figli che non si deve mai stare con le mani in mano e che bisogna sempre fare qualcosa, specialmente aiutare gli altri. Giorgio, inoltre, lavora molto duramente, così tanto che negli anni è riuscito a diventare un imprenditore e creare un piccolo impero. Nel tempo riesce a fondare ben 4 imprese edili, anche se una fonte dice soltanto una. Ma oltre a questo riesce anche ad aprire due agriturismi, quindi fa lavorare i figli maschi nell'edilizia, mentre le figlie femmine negli agriturismi. Anna Maria in tutto ciò cresce in un ambiente allegro e vivace, anche se le regole in casa Franzoni sono abbastanza rigide. Per esempio, i figli maschi devono per forza fare sempre qualcosa e guai se vengono scoperti a non fare niente, mentre le figlie devono principalmente occuparsi della casa. Nonostante questo, però, non è una famiglia del tutto chiusa e neanche così tanto all'antica. I genitori comunque hanno una grande considerazione per Anna Maria perché è la prima delle figlie femmine e nutrono grandi aspettative per lei. Inizialmente in casa svolge un ruolo da vice mamma, cioè si occupa dei fratelli e delle sorelle minori. Intanto frequenta le scuole tranquillamente e dopo il diploma di ragioneria, nell'agosto del 1991, va a lavorare come cameriera in un albergo in Valle d'Aosta, a Lillaz. Lì, in questo albergo, conosce un giovane bolognese che si chiama Stefano Lorenzi. Lui è un vero appassionato di montagna e in quel periodo era in vacanza con i suoi genitori, Mario Lorenzi e Alida Possenti. Tra Anna Maria e Stefano scatta subito un vero e proprio colpo di fulmine, quindi cominciano ad uscire sempre più spesso e alla fine si fidanzano. Ma dopo del tempo trascorso insieme decidono anche di sposarsi e lo fanno il 13 giugno 1993, quindi relativamente poco tempo dopo essersi conosciuti. A questo punto Stefano fa le elettricista e vive già in Valle d'Aosta, così Anna Maria lo raggiunge e cominciano insieme la loro nuova vita in mezzo alle montagne. Sono davvero genuinamente felici in quel periodo. Si stabiliscono a Montreux, una stazione di Cogne, che sarebbe un piccolo paesino a circa 30 minuti di auto da Aosta e vivono in uno chalet dotato di tutti i comfort, in cui c'è anche un piccolo appartamento per ospitare i genitori, amici e persone comunque carie. Poco dopo diventano anche genitori e nascono due bambini. Davide nasce il 9 settembre 1995 e Samuele il 12 novembre 1998. Anna Maria sembra trovare subito un perfetto equilibrio nel ruolo di moglie e di mamma. La casa è sempre immacolata, non c'è mai un oggetto fuori posto ed è sempre tutto pulito. Inoltre Anna Maria si dice cucini spesso torte e biscotti per i bambini e per i loro amichetti. Quindi sembra proprio un ambiente e una situazione perfetta. Molto sana e serena, sembra. Infatti tranquillità e serenità non dureranno a lungo. Tanto per cominciare si dice che siano nati dei problemi nella sfera privata della coppia. Da quando è diventata mamma infatti la vita di Anna Maria ha cominciato ad essere diciamo altalenante. Su internet si parla del fatto che litigasse spesso con i vicini o che semplicemente non li vedesse di buon occhio. Si dice anche che il rapporto con suo marito Stefano non fosse più felice come era un tempo e pare che Anna Maria soffrisse anche di alcune crisi di rabbia e di altri comportamenti diciamo controversi, se consideriamo il caso di oggi. Eppure nonostante tutto la sua vita è continuata tranquillamente tra alti e bassi. E arriviamo quindi al 2002. In questo momento il più piccolino, Samuele, ha ancora tre anni ed è molto legato alla madre. Lei dice di volere molto bene i suoi figli. Ma ci sono delle voci secondo cui in realtà Anna Maria non considerasse Samuele proprio in modo positivo. Anzi, sembra secondo queste voci che le desse un po' fastidio. Lo aveva addirittura accusato di avere la testa grossa per qualche motivo. Inoltre non è certo la sua dottoressa le avrebbe prescritto degli ansiolitici che però Anna Maria in teoria non ha mai preso. Però non è certo, lo ripeto. Insomma tutto ciò per farvi capire che per la donna non è stato un periodo semplice. Anche perché ha sofferto di una serie di svenimenti, di problemi respiratori ed è anche stata fatta una prima diagnosi di depressione. Per cui capite che la situazione non è per niente tranquilla. È solo una facciata. E infatti un giorno tutto questo scatenerà una tragedia che segnerà per sempre la storia del nostro paese. È il 30 gennaio 2002 e succedono tantissime cose. Seguitemi con attenzione perché cercherò di farvi una ricostruzione degli eventi quanto più accurata e dettagliata possibile, comprese date, orari, cose così. La giornata parte male perché le complicazioni cominciano già dalle prime ore del mattino. Sono circa le 5. Il piccolo Samuele si sveglia piangendo perché la mamma aveva trascorso una notte difficile. Si era sentita poco bene e aveva riferito tutto al suo marito. Gli aveva detto di sentire un formicolio alle gambe poi mal di stomaco, nausea e debolezza. Stefano quindi quella mattina chiama il 118 alle 5.58 oppure alle 5.30 a seconda delle fonti. Verso le 6 del mattino arriva la dottoressa Stefania Neri che dopo averla visitata le dice che ha una banale influenza e non le prescrive nessun farmaco. Poco dopo fanno colazione in famiglia tutti insieme e l'atmosfera sembra tutto sommato tranquilla. Poi alle 7.30 Stefano va a lavorare. Samuele però piange tantissimo e Anna Maria cerca come può di consolarlo e di calmarlo. Lo porta nel letto matrimoniale al pian terreno, lo copre per bene con una trapunta soffice e gli dà un fazzoletto che il piccolo usa come ciuccio. Gli tiene anche accesa la televisione così da distrarlo un pochino. Intanto il tempo passa e l'altro figlio, Davide, deve andare a scuola. Anna Maria si cambia il pigiama, si mette il giaccone e accompagna Davide alla fermata dell'autobus. Secondo la sua versione dei fatti a quel punto erano le 8.15. La donna, dice, era a 200 metri di distanza da casa e aveva lasciato il piccolo Samuele al sicuro nel lettone con la tv accesa. Dichiara inoltre che era rimasta alla fermata col figlio più grande fino alle 8.20 e appena salito sul mezzo gli ha fatto un cenno di saluto ed è tornata indietro. In tutto, dice, sarà stata via 8 minuti al massimo. Per completare la sua versione dei fatti, quello che ha raccontato, voglio leggervi due righe tratte dal suo libro. Queste sono le sue parole. Arrivo poi in camera da letto. La stanza è semibuia. Non faccio caso a tutto ciò che ho intorno, ma il mio sguardo e la mia attenzione vanno a letto per vedere Samuele. Il piumone copre completamente il letto. Penso che si sia nascosto per farmi lo scherzo del cucù, ma nello stesso momento sento un respiro strano. Prendo il piumone che lo copre dall'angolo della mia parte e con un gesto lo alzo buttandolo sul letto. Un sussulto. Urlo. Samuele! Un tonfo al cuore. Tutto si ferma. Il respiro manca. Lui è lì, fermo. Solo un rantolo del respiro. Gli occhi socchiusi. Il viso pallido. Tanto sangue intorno a lui. Una grossa e profonda ferita in mezzo alla fronte fino all'occhio, dove esce della materia cerebrale. Vedo il sangue. Tanto. Intorno alla testa e sul cuscino. Penso che forse mi ha chiamato talmente forte che insistendo gli è scoppiata la testa. Una volta piangendo molto forte gli si era rotto un capillare in un occhio e il pediatra mi aveva detto che era stato per la forte pressione del pianto. Da qui in poi una serie di eventi a catena. Alle 8 e 27 Anna Maria chiama la dottoressa Ada Satragni e le dice che a Samuele è scoppiata la testa. Alle 8 e 28 digita 118 e chiama il pronto soccorso. Dice che suo figlio vomita sangue nel letto. Un minuto dopo chiama il centralino della ditta dove lavora il marito e dice di avvertirlo che deve rientrare a casa, ma specifica delle parole agghiaccianti. Cito. Non ditegli che Samuele è morto. La donna in quel momento già dà per scontata la sua morte ma il piccolo è ancora vivo. Quando telefona era vivo. Non era ancora morto. In questo arco di tempo chiama anche la sua vicina Daniela Ferro e le chiede aiuto anche se in passato avevano avuto qualche discussione. Passa ancora un po' di tempo e arriva la dottoressa Satragni. È la prima di intervenire sul posto e in quel momento pensa che il bambino stia avendo un aneurisma cerebrale e sottolinea per causa naturale. Capisce che la situazione è gravissima e che il pianto del bambino potrebbe letteralmente aprirgli la testa. Nota anche che dalla ferita fuoriesce dalla materia grigia e a quel punto la dottoressa prende in mano il bambino e lo sposta fuori casa nonostante facesse molto freddo. Gli lava il volto e il capo lo mette su una barella improvvisata e queste azioni a quanto pare sono motivate dall'urgenza della rianimazione. Il problema è che facendo così stava compromettendo la scena del crimine nonché le condizioni del piccolo Samuele. Intanto però arriva l'eli soccorso alle 8.51. I soccorritori si rendono conto che la situazione è fin troppo grave, anzi drammatica. A primo sguardo perdono già le speranze e sempre loro, i soccorritori, si rendono subito conto di un'altra cosa molto inquietante. Secondo la loro analisi della situazione le ferite sul corpo della vittima sono frutto di un atto violento. Non si tratta di una tragedia accaduta per caso. Sembra che qualcuno abbia fatto del male a Samuele intenzionalmente. Quindi avvisano i carabinieri che arrivano ed effettuano i primi sopralluoghi. Attorno alle 9 del mattino arriva anche il papà, Stefano, e il piccolo Samuele viene sistemato sulla barella alle 9.19. Quindi l'elicottero decolla e si dirige verso l'ospedale di Aosta. Ma non c'è molto da fare. La ferita è troppo grave e il piccolo Samuele viene dichiarato deceduto alle 9.55 di quel mattino. Successivamente l'autopsia conferma le prime impressioni dei soccorritori e si stabilisce la causa del decesso, ovvero almeno 17 colpi sferrati con un corpo contundente. Sul capo della vittima vengono trovate persino delle micro tracce di rame. Si pensa quindi che l'arma del delitto fosse un mestolo o comunque qualche padella di rame o qualcosa di simile. Ci sono però leggere ferite sulle mani, ferite che fanno pensare a un estremo tentativo di difesa disperato da parte del piccolo. Insomma Samuele ha sofferto tantissimo e ha cercato persino di difendersi. Ma chi è stato? Chi gli ha fatto tutto questo? E perché? Il colpevole è qualcuno di estraneo oppure è qualcuno che si trovava già lì in casa? Spero di aver ricapitolato bene le dinamiche di quella mattina. Se eventualmente mi fosse sfuggito qualcosa non esitate ad aggiungere informazioni nei commenti, mi raccomando. Comunque tornando a noi, da qui in poi la storia inizia per davvero e la stampa comincia a diffondere la notizia della morte di Samuele. Ma fin dall'inizio la situazione appare molto strana e sospetta. È facile pensare subito al peggio ma servono delle prove e infatti è quello che cercano gli inquirenti che setacciano l'abitazione da cima a fondo. Anna Maria, suo marito e loro figlio Davide vengono quindi allontanati dalla casa e vanno momentaneamente a vivere nel residence le cascate di Lillaz, che era di proprietà di un'amica di famiglia. Poi a febbraio dello stesso anno si trasferiscono tutti a Monte Acuto Vallese dove viveva la famiglia di Anna Maria. Purtroppo devo dirvi che già da subito la scena del crimine viene invasa da tantissime persone e non solo da esperti o addetti ai lavori ma anche semplicemente da curiosi. Questo compromette ancora di più la situazione ma intanto ecco cosa viene fuori. Nonostante i tantissimi sopralluoghi fatti lì dentro l'arma del delitto non viene mai ritrovata. Addirittura ancora adesso si discute sul tipo di oggetto utilizzato. Ci sono varie teorie e varie supposizioni ma tutto senza conferma. Come in ogni indagine moderna all'interno della casa viene anche usato il luminol che per chi non lo sapesse si tratta di una torcia che permette di vedere tracce di sangue e altri tipi di sostanze corporee ma non solo. Ecco grazie al luminol viene trovato tantissimo sangue in posti molto molto sospetti come per esempio sul pigiama di Anna Maria Franzoni. Questo pigiama viene trovato parzialmente nascosto tra le coperte del letto matrimoniale solo dopo alcune ore dal delitto ma non è tutto. Su quel pigiama ci sono anche frammenti di osso e persino della materia cerebrale. La particolarità di queste macchie è che sembrano macchie da schizzo cioè da quello che dicono le fonti il pigiama si è sporcato in un modo molto strano come se la persona che lo indossava si fosse trovata a cavalcioni su samuele e che lo avesse colpito almeno 17 volte. A questo punto per gli investigatori il sospetto sulla franzoni è molto forte. Pensano che abbia indossato lei quel pigiama prima del loro arrivo e che quindi fosse lei la colpevole. In realtà non sono solo gli investigatori a pensare subito alla sua colpevolezza ma anche tantissime persone comuni e col passare del tempo questo sospetto diventa sempre più una convinzione. Nelle ciabatte della donna viene trovato il sangue della vittima e in tutta la casa non sono presenti tracce di estranei. Non ci sono neanche segni di scasso nella porta anche se Anna Maria aveva detto di averla chiusa quando era uscita. Ma vabbè più avanti ritratterà questa cosa poi ci arriviamo. Oltre a tutto questo i vicini e i passanti non avevano visto nessuno di sospetto in quei giorni. Cioè sembra che ci siano molte prove contro le dichiarazioni di Anna Maria. Tutti elementi che fanno pensare davvero al peggio. La donna quindi entra in una bufera mediatica che la vede sempre più come colpevole. E moltissimi si schierano contro di lei. Le sue apparizioni pubbliche fanno sempre scandalo e programmi tv famosissimi fanno in modo di diffondere questa storia creando teorie su teorie. Molte di queste teorie sono anche fin troppo fantasiose ma altre sembrano più verosimili. Sembrano più plausibili. Così la figura di Anna Maria diventa ancora più controversa ma non solo a causa delle apparizioni in tv. Anche per via di alcune sue dichiarazioni che nel tempo sono diventate famosissime. In diverse occasioni infatti la donna ha dimostrato di avere un carattere piuttosto strano possiamo dire. Allora torniamo un attimo indietro nel tempo. Il giorno del delitto lei non solo aveva già detto che il bambino era morto anche se in quel momento era ancora vivo. Ma in più ha detto a suo marito queste esatte parole. Facciamo un altro figlio. Mi aiuti a farne un altro. O almeno lei ha sempre negato di aver detto queste parole solo che è stata sentita. Non sono riuscito a trovare da chi è stata sentita però insomma si dice che abbia detto queste parole e sono parole diventate famosissime. Lei ha sempre negato. Da quello che sappiamo però da quella fonte Stefano in quel momento suo marito non l'aveva risposto anzi era anche un po' infastidito da quelle parole. E ci credo c'è oggettivamente un pensiero strano da avere in una situazione così. Ti è appena morto un figlio e dice ne facciamo un altro. È molto sospetto anche questo. Il giorno dopo poi durante l'interrogatorio in caserma Anna Maria ha detto queste cose. Ve le cito anche queste. Purtroppo ci sono anche delle madri che ammazzano i figli. Ce n'è. Oppure ha anche detto spero che sia stato ucciso. Stia tranquillo. Queste sono dichiarazioni che ovviamente non provano nulla ma che hanno scombussolato parecchio l'opinione pubblica. Durante le indagini sono state anche intercettate delle conversazioni telefoniche e in una di queste a quanto pare si sentirebbero Anna Maria, suo marito e altri parenti discutere su come provocare alcuni vicini di casa affinché questi confessassero l'omicidio. Gli investigatori in particolare registrano una frase del padre di Anna Maria che dice queste parole. Ve le cito ancora. Vi citerò tutto perché io non voglio dire niente dalla mia bocca perché questa storia ragazzi io non ci voglio centrarne niente. Ok? Vi cito le parole del padre di Anna Maria. Meglio se è stato uno senza figli. Ha detto questo. C'è come se stessero scegliendo tutti insieme in un'assemblea a chi dare la colpa e chi far passare come il colpevole. Meglio se è uno senza figli. Questa è l'intercettazione. In realtà non sappiamo il contesto, non sappiamo bene di che cosa stessero parlando. Quindi prendiamo tutto per quello che è in maniera molto oggettiva e distaccata. Ok? Comunque nel corso della stessa conversazione il padre della Franzoni arriva a sostenere che sarebbe stato auspicabile che tutti i vicini confessassero. Facendo riferimento a due coppie distinte e a una quinta persona sempre nel vicinato. Poi in un'altra intercettazione ancora si sentono il padre e il marito della Franzoni architettare qualcosa che sembra molto losco. Ovvero sembra che stessero architettando un modo per far trovare un martello nel terreno dei vicini. In modo da sviare gli inquirenti o comunque per far credere che fosse l'arma del delitto perduta dall'assassino durante la fuga. Insomma da quando è scoppiato il caso, Anna Maria e le persone più vicine a lei non convincono né l'opinione pubblica né gli investigatori stessi. Questi ultimi infatti riflettono sul fatto che quel giorno lei era davvero l'unica persona che avrebbe potuto commettere quell'omicidio. Specialmente a quell'ora. E le persone che all'ora dei fatti si trovavano nella zona non avevano visto nessuno di sospetto. Nulla di insolito. Insomma se non è stata Anna Maria Franzoni allora chi? Nonostante questo si cerca comunque di darle il beneficio del dubbio. Si prova a pensare ad altro. Si cerca di pensare per un secondo che Anna Maria davvero non fosse colpevole. Per farlo però bisogna cercare di dare una spiegazione a tantissime stranezze. Per esempio al pigiama sporco di sangue. Per far si che Anna Maria risulti innocente bisognerebbe ipotizzare che il pigiama fosse sul piumone del letto e non che lei lo stesse indossando. Poi se il colpevole fosse stato qualcun altro dovrebbe essere stato per forza qualcuno che ha visto Anna Maria uscire di casa e si è intrufolato. Ma per fare cosa? Perché uno sconosciuto dovrebbe entrare in una villa a caso e uccidere un bambino di tre anni. È assurdo no? Certo. È assurdo ma senz'altro è anche possibile allo stesso tempo. Magari era qualcuno che voleva fare una rapina ma dato che Samuele continuava a piangere si è impanicato e lo ha colpito ripetutamente finché non è stato zitto. Certo è possibile ma c'è bisogno di prove. E già questa ipotesi non sembra reggere perché non è stato rubato niente. Magari però si tratta semplicemente di qualcuno che è entrato e in un raptus di rabbia ha fatto ciò che ha fatto per qualche motivo ignoto. Ma ricordiamoci che qualora ci fosse effettivamente questa terza persona avrebbe fatto tutto in appena otto minuti senza lasciare tracce di alcun tipo e senza che nessuno lo vedesse. Insomma è molto controversa come teoria. Cioè provare l'innocenza di Anna Maria non è affatto facile. Infatti a questo punto per gli inquirenti è più facile sospettare di lei piuttosto che di qualcun altro. Come vi ho già detto in casa non sono stati ritrovati segni di effrazione ma la stessa Franzoni inizialmente aveva dichiarato di aver chiuso la porta quando è uscita. Anzi ha proprio detto queste parole. L'ho chiusa e so bene quello che faccio. Il giorno successivo tuttavia cambia versione e lo fa per un motivo specifico. Nella caserma dei carabinieri di Cogne qualcuno sente il marito che dice alla donna che la sua affermazione di aver chiuso la porta è controproducente per lei. Cioè le dice che in sostanza è un dettaglio che sarebbe andato a suo sfavore in processo. E così la Franzoni cambia versione e dice di averla lasciata aperta perché diversamente a suo dire Samuele si sarebbe allarmato specialmente se si fosse reso conto che lei era uscita e l'aveva lasciato da solo. Le sue parole appaiono confuse e contraddittorie e sommando tutti i sospetti precedenti gli inquirenti si convincono sempre di più della sua colpevolezza. Ormai sono quasi certi che lei sia colpevole e come molti italiani e come molti giornali e programmi tv si scagliano apertamente contro di lei. Così nella notte del 14 marzo 2002 i carabinieri su ordine del jeep Fabrizio Gandini arrestano Anna Maria Franzoni che viene trasferita nella sezione femminile del carcere delle Vallette di Torino. Il reato contestato è quello di omicidio volontario aggravato. Per l'accusa i colpi mortali che hanno ucciso il piccolo Samuele sarebbero stati inflitti nei 4-5 minuti prima che Anna Maria uscisse di casa, non dopo, come invece sosteneva la sua difesa. Fanno notare anche il pigiama e le ciabatte insanguinati che sempre secondo l'accusa sono stati indossati dal colpevole nel momento in cui sferrava i colpi mortali per cui per l'accusa ma anche per molti che non c'entrano niente col caso a togliere la vita al bambino può essere stata solo sua madre. Ad ogni modo vabbè comincia il processo che come sapete è stato molto seguito. Addirittura in quel periodo appena qualche programma tv mandava in onda i servizi, video o foto di Anna Maria Franzoni, lo sharing pennava. Erano davvero tutti inquietati, sconvolti ma anche al tempo stesso molto interessati a conoscere ogni dettaglio. Ma ecco che arriva il primo colpo di scena. Il 30 marzo 2002 i giudici del tribunale di Torino accolgono le motivazioni della difesa di Anna Maria. Il suo avvocato Carlo Federico Grosso fa un discorso molto articolato che dura ben sei ore. In gergo si dice che ha fatto una ringa, cioè una difesa orale molto complessa e dettagliata. Nonostante abbiano criticato questa sua difesa, alla fine è stata molto efficace. L'ordinanza viene annullata e la Franzoni torna in libertà dopo due settimane trascorse dietro le sbarre. Così alla vigilia di Pasqua torna dai suoi cari. Il rientro a Monte Acuto Vallese viene ripreso da tutte le televisioni del paese. Anna Maria ormai è un'icona mediatica. Il delitto di cogno è l'argomento del giorno, anzi del mese o dell'anno, degli anni. Ma l'Italia, come succede sempre in questi casi, è totalmente spaccata e divisa in due. Si creano le famose fazioni dei colpevolisti e degli innocentisti. Io mi ricordo proprio che a un certo punto della mia esistenza sentivo gli adulti chiedersi tra di loro. Secondo te la Franzoni è innocente? La maggior parte delle persone diceva che era colpevole, o almeno io mi ricordo così. Ma ero molto piccolo. Oddio aspetta, anche se ero molto piccolo mi è appena venuto in mente che ce lo chiedevamo anche tra noi bambini. Cioè, vi rendete conto di quanto la situazione fosse sfuggita di mano? Cavolo, mi ricordo proprio che, anche se non capivamo cosa fosse successo, noi bambini di 4, 5, 6 anni, 7 anni, menzionavamo la Franzoni. Probabilmente nella nostra testa era solo una cosa sentita in tv dai nostri genitori e quindi la ripetevamo. Però, cavolo, pensarci adesso, che so cosa è successo e che capisco la gravità della situazione mi sembra una cosa terribile. I bambini parlavano di questo. Oddio. Vabbè, comunque, il 26 aprile del 2002, sotto richiesta del GIP Gandini, Anna Maria viene sottoposta ad una perizia psichiatrica. E questa perizia dà modo alla stampa di farci capire com'è realmente questa donna. Quelle che sto per leggervi sono alcune delle parole che emergono da queste analisi. Per completezza e per evitare di dire cose sbagliate, ve le cito ancora una volta. La signora Franzoni era depressa già nei mesi precedenti e non aveva una depressione leggera. Quando si proclama innocente probabilmente è in buona fede. Ha scisso quello che è accaduto e lo ha buttato via. Il funzionamento borderline può mascherarsi sotto le vesti della normalità. Tra l'altro non era nuova crisi come quelle che ha avuto la mattina del delitto, con formicoli, svenimenti e dolori agli arti. Le sue erano crisi d'angoscia che negli anni è riuscita a controllare costruendosi intorno dei contenitori fortissimi. Prima la sua famiglia d'origine, con un padre dal carattere forte, poi con un marito che la protegge. Quindi in sostanza lei non si ricorda di aver fatto quella cosa secondo questa perizia psichiatrica. Cioè non si ricorda alcune cose perché si era costruita una sorta di bolla, una sorta di realtà in cui era protetta da personalità forti ma in cui in realtà lei soffriva. E a un certo punto il suo cervello come meccanismo di difesa tipo la alienata dalla realtà, la scissa dalla realtà come dice la perizia. È interessante, è plausibile, succede. Tempo dopo, il 10 giugno, la Cassazione annulla la sentenza del tribunale di Torino e il 23 giugno Anna Maria e suo marito Stefano assumono un nuovo avvocato, Carlo Taormina. Riguardo questo cambio d'avvocato, stando ad alcune fonti, pare che c'entri il padre di Anna Maria, vi ricordate no? L'uomo che ha insegnato ai suoi figli il duro lavoro e cose del genere. Ecco, lui era molto deluso e arrabbiato per tutta questa storia, anche perché il nome della sua famiglia si stava macchiando per via di questo delitto. Lui aveva passato tutta la vita a provare a rendere i suoi figli delle brave persone e aveva creato un piccolo impero, ma ora a causa di tutto ciò ogni cosa costruita nel tempo stava crollando ed è chiaro che non voleva che succedesse. Così prese le difese di sua figlia, una font addirittura lascia intendere che è grazie a lui e ai suoi agganci che sono riusciti ad assumere l'avvocato Taormina. Ma in generale suo padre è una figura molto presente in tutta questa storia, era sempre in prima linea pronto a difendere Anna Maria. Anzi sembra essere proprio lui la persona che si è più esposta, anche di più rispetto ad Anna Maria stessa. Ma tornando alle vicende, il 15 luglio dello stesso anno, i periti del GIP depositano la perizia psichiatrica e concludono che Anna Maria, al momento dei fatti, aveva piena capacità di intendere di volere. In altre parole, era lucida e sana di mente, nonostante tutte le patologie di cui soffriva. Il giorno dopo, al Maurizio Costanzo Show, Anna Maria conferma la notizia che stava circolando da tempo, ovvero dice che è incinta del terzo figlio. Gioele Lorenzi, così lo chiamano, nasce a Bologna in una clinica privata nel gennaio del 2003. Questo nuovo bambino, come potete immaginare, nasce in una situazione familiare a dir poco allarmante, perché anche se il tempo passa, il caso è ancora aperto. Infatti il 19 luglio 2004 si ritorna in aula. La difesa della Franzoni chiede il rito abbreviato, ma l'imputata viene condannata a 30 anni di carcere. Nell'estate dello stesso anno, subito dopo la condanna di primo grado, l'avvocato di Anna Maria Carlo Tormina e alcuni suoi consulenti fanno una sorta di sopralluogo nella villetta per cercare nuove prove che potessero provare che fosse innocente. Ebbene dopo questa nuova analisi viene annunciato qualcosa di scioccante. Sulla porta della camera da letto viene trovata un'impronta digitale insanguinata appartenente al vero presunto assassino. Si trovano anche delle tracce di sangue della vittima nel garage della casa, quindi come potete immaginare si tratta di una scoperta che segna una vera svolta. È quello che gli innocentisti stavano aspettando da tempo, ma questa euforia dura pochissimo. In realtà presto si scopre che l'impronta digitale apparteneva ad uno dei tecnici della difesa e il dito che l'aveva lasciata non era sporco del sangue di Samuele, ma bensì di luminol. Mentre le tracce ematiche trovate nel garage non contenevano il sangue della vittima, anzi scoprono che non si trattava neanche di sangue umano. L'avvocato Tormina comunque non si arrende e cerca di andare contro la sentenza. Ecco quindi un altro colpo di scena. Nel luglio del 2004 Anna Maria e suo marito Stefano sporgono denuncia contro un vicino di casa, un uomo di nome Ulisse Guicciardà. Lo accusano di essere il vero assassino e forniscono dei moventi di natura perversa elencando una serie di presunti indizi contro di lui, alcuni dei quali decisamente particolari. Come per esempio dicono che avesse l'abitudine di portare spesso gli occhiali da sole, ok, e che indossasse un parrucchino per nascondere la calvizie, ok, parte 2, e inoltre spiegano che aveva avuto intenzioni moleste e persecutorie nei confronti della donna di Anna Maria. Peraltro, piccolo inciso, queste moleste non sono mai state notate da nessuno e mai segnalate o dichiarate prima dalla donna. Ulisse viene comunque ripetutamente interrogato nel corso degli anni ma fornisce sempre la stessa versione. Afferma che il giorno del delitto si era svegliato verso le 8 perché suo padre l'aveva chiamato per aprire il negozio degli alimentari e alla fine la sua versione e i suoi alibi vengono ritenuti attendibili, quindi l'accusa contro Ulisse non regge e anzi la Franzoni e suo marito vengono indagati per calunnia proprio a causa di questa denuncia infondata. Teoricamente, teoricamente. Ma Anna Maria in quel periodo è convinta al 100% che sia stato qualcuno del loro avvicinato, infatti oltre ad Ulisse lancia altre accuse contro la vicina di nome Daniela Ferro, con cui pare che avesse avuto qualche problemino banale in passato, ma alla fine le perizie effettuate dai RIS e gli alibi dei sospettati portavano sempre a sospettare di Anna Maria e mai di qualcun altro, specialmente mai dei vicini che sembrano essere semplicemente fuori da tutta questa storia. Questa fase della vicenda porta di nuovo i riflettori sulla Franzoni, su suo padre e su suo marito e quindi inizia quello che è passato alla storia come il cognobis, una nuova fase di processi che rovieneranno l'immagine della donna per sempre e sempre di più col passare degli anni. Il 16 novembre 2005 a Torino inizia il processo d'appello per il delitto di cognio. Le prime persone che vogliono assistere al processo arrivano sul posto già alle 5 del mattino e verso le 9 c'è già una folla di gente che cerca di farsi spazio verso l'entrata. È davvero pieno di persone, ci sono giornalisti, cameraman, persone comuni e tutti aspettano solo lei, Anna Maria Franzoni. La donna però entra in tribunale da una porta secondaria, mentre il suo seguito, ovvero una trentina di persone tra familiari e amici, si fa largo tra i flash dei fotografi verso l'ingresso principale. Il 12 dicembre ha luogo la quarta udienza che è molto importante perché è quella in cui la corte aveva conferito formalmente a quattro esperti l'incarico di esaminare l'imputata, che però non si presenta. L'avvocato Taormina giustifica questa assenza al processo dicendo che Anna Maria non si sottoporrà ad una nuova perizia psichiatrica perché l'aveva già fatta, quindi le viene fatto un nuovo interrogatorio il 19 dicembre del 2005. In realtà non sarà un vero e proprio interrogatorio perché Anna Maria ancora una volta parla spontaneamente, ribadisce la sua innocenza e parla di Samuele come un bambino bellissimo, dolcissimo e affettuosissimo. Non accetta proprio ciò che i colpevolisti dicono su di lei, si dimostra arrabbiata e delusa a sentire ciò di cui l'accusano e ribadisce che non ha un c***o Samuele. Ma in questo nuovo uragano mediatico e processuale avviene un altro colpo di scena. Il 27 febbraio 2007 il famoso avvocato Taormina abbandona la difesa della Franzoni. A quanto pare lei non l'aveva mai pagato per cui gli doveva tantissimi soldi. Il processo però non era finito e c'era bisogno che un avvocato la difendesse. Poco dopo quindi l'avvocato Paola Savio accetta l'incarico dalla Franzoni. Ma giunti a questo punto ormai c'è poco da fare. Il 27 aprile del 2007 questa storia assurda e infinita si conclude con la sentenza di secondo grado del tribunale di Torino. Viene constatato che Anna Maria è colpevole ma le vengono riconosciute delle attenuanti. Per i giudici siamo di fronte a una madre che quella lontana mattina del 30 gennaio 2002 ha perso la testa e ha colpito a m***e suo figlio in predator raptus. La condanna ultima è di 16 anni di reclusione e per questo scoppia il caos. Tantissime persone pretendevano che come minimo venisse condannata all'ergastolo. Ma è anche vero che tantissime persone non sono giudici cosa che durante questa vicenda in molti si sono dimenticati. Comunque il 21 maggio del 2008 la Franzoni tenta di nuovo di ribaltare le sue sorti. Si tratta dell'ultimo atto legale per cercare di non finire per tutto quel tempo dietro le sbarre. Ma anche la corte suprema di Cassazione conferma la sentenza e la sera stessa la Franzoni viene arrestata dai carabinieri a Ripoli Santa Cristina e condotta in carcere. A fine luglio 2008 vengono anche pubblicate le motivazioni della sentenza e per l'Italia intera giustizia è stata fatta. Ma se c'è una cosa che abbiamo imparato da questa storia è che i colpi di scena non finiscono mai. Infatti dal novembre del 2008 verranno fuori tutta una serie di notizie e aggiornamenti di importanza sempre maggiore. Si comincia con una nuova perizia psichiatrica richiesta dalla stessa Anna Maria che conferma che per lei c'è il rischio di reiterazione del reato ovvero c'è il rischio che possa fare di nuovo del male. Così le negano la possibilità di incontrare i figli fuori dal carcere. Poi il 26 gennaio 2009 la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per il reato di calunnia contro Ulisse Guicciardà il suo vicino di casa che aveva denunciato vi ricordate? Ma anche per frode giudiziaria frode processuale non mi ricordo come si dice. Anna Maria Franzoni quindi viene di nuovo condannata il 19 aprile 2011 e viene condannata a un ulteriore anno e quattro mesi di reclusione. Anni dopo però il 26 giugno 2014 dopo sei anni di detenzione succede di nuovo un ennesimo e inaspettato colpo di scena anzi credo che molti di voi ricorderanno lo shock di questa notizia. Quel giorno la Franzoni viene scarcerata grazie ad una perizia psichiatrica che esclude il rischio che possa ancora fare del male. In realtà già da tempo godeva di alcuni benefici come per esempio numerosi permessi che le consentivano di uscire periodicamente dal carcere per stare con la sua famiglia. Semplicemente però ha avuto una buona condotta in carcere e questo le ha concesso prima di diminuire la sua pena e poi di uscire effettivamente e in maniera definitiva dal carcere. In quel periodo però rimane agli arresti domiciliari. Poi dal settembre del 2018 questa follia finisce per davvero. Anna Maria Franzoni è una donna definitivamente libera. I suoi famosi 16 anni di reclusione sono stati ridotti a meno di 11 e la notizia della fine ufficiale della sua pena diventa di dominio pubblico il 7 febbraio del 2019. Ancora oggi per moltissimi Anna Maria è un mostro crudele e senza scrupoli che sia anche approfittata della legge e della buona condotta. Insomma i colpevolisti rimangono colpevolisti fino alla fine così come anche gli innocentisti. Di base che si schiera così tanto da una parte o dall'altra è difficile che cambi idea. Ma adesso nel 2023 che fine ha fatto la Franzoni? Sono usciti parecchi libri e documentari in questi anni e anche di recente la stessa Anna Maria ha commissionato un libro che ha fatto molto storcere il naso. Ma è ormai da molto tempo che lei non si mostra in pubblico o nei media non fa più apparizioni. Infatti le ultime notizie che abbiamo su di lei sono frutto di gossip più che di giornalismo d'inchiesta. Oggi Anna Maria è ritornata nel suo paese di origine, Monteacuto Vallese. Suo marito non l'ha mai abbandonata e i figli hanno ormai 27 e 20 anni. La donna gestisce l'agriturismo di famiglia anche se ora sembra sia chiuso temporaneamente. La villetta di Cogne, quella della scena del crimine, è rimasta alla famiglia Lorenzi ma solo dopo una contesta giudiziaria con l'avvocato Taormina per via dei soldi che non gli avevano mai dato. Una fonte dice che per un capodanno sono tornati in quella villa a passare le feste. Per la tomba di Samuele sua madre ha voluto un marmo bianco senza scritte e senza incisioni. E nonostante sia sepolto nel piccolo cimitero di Monteacuto Vallese, per molti il piccolo sarà sempre nello chalet di Cogne, nel cuore del colle Gran Paradiso. Ancora oggi rimane qualche dubbio sulla colpevolezza o sull'innocenza di Anna Maria. C'è chi crede che Samuele abbia avuto una crisi epilettica così forte da fargli sbattere la testa ripetutamente contro un comodino. Altre persone credono che sia stato addirittura il fratello di Samuele, Davide, che aveva sette anni all'epoca. D'altra parte ci sono persone che sono assolutamente sicure che invece sia stata la Franzoni. In realtà ci sono ancora adesso varie teorie su questo caso ma si tratta solo di questo. Teorie. Come vi ho detto all'inizio nessuno di noi ha la verità in tasca, probabilmente neanche Anna Maria stessa perché magari davvero non si ricorda cosa è successo, magari davvero viveva in una bolla, magari davvero è stata lei, magari non è stata lei. Cioè la verità in questo caso ragazzi non... è davvero difficile da trovare, davvero difficile. Quindi vi invito a commentare con rispetto e aggiungere anche dei dettagli che magari mi sono sfuggiti. Spero di essere stato davvero il più imparziale possibile in questo video perché è un video molto delicato e si tratta in generale di una vicenda che mi ha toccato davvero molto anche perché è accaduto letteralmente a due passi da dove vivo io e mi ricordo bene, mi ricordo davvero bene, molte cose riguardo al caso. Io ero qua, il processo era lì dietro. Ok? Quindi niente, vi aspetto qui sotto nei commenti. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto, ve lo giuro prestissimo, uscirà lo speciale per i 100.000 iscritti. Lì vi ringrazierò come si deve. Quindi qui non dico altro, vi dico solo grazie a tutti perché siamo tantissimi, io sono super emozionato, non mi sembra vero. Grazie. So che non è il video giusto per dirlo ma tranquilli, tra poco uscirà anche quello. Quindi spero che rimarrete nei paraggi. Se vi hai incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!